Remettiamo che Bari-Feral Pisalò mi aspettava una partita normale, modesta, ma sul finale non si è capito più niente. Ma che cosa ho assistito, santo cielo, che cosa ho assistito questo pomeriggio di sabato? Intanto buonasera, buon pomeriggio amici del Bresero Sonero, come sempre iscrivetevi, campanina attivata, link in descrizione, compreso Instagram dove avrete tutti gli aggiornamenti. Bari batte Feral Pisalò in una partita che all'inizio, dopo un iniziale assedio di voglia, di pressing, di cattiveria del Bari, sembrava che potessimo trovare da subito il gol. E invece poi il Feral Pisalò, va detto, ha difeso divinamente oggi, non ha fatto passare niente, seppur noi abbiamo provato a costruire qualcosa, ma va detto che quando vanno dati meriti, vanno dati meriti. E oggi il Feral Pisalò ha fatto una partita meravigliosa dal punto di vista difensivo. Noi, invece, oltre dal punto di vista difensivo, dal punto di vista offensivo, mancava qualcosa. Io dirò, sarò io che ho qualcosa contro sto uomo, ma pus, che a me non mi fa impazzire, non è una punta. Cioè, è una punta, ma non è la punta che, insomma, vorrei nel gioco, perché sinceramente avere una punta, non dico come che dira, ma una che abbia quelle qualità lì, che possa comunque spizzarla ogni tanto di testa, sarebbe la cosa migliore. Il problema è che Dio non c'è mai, Menes non è una punta e questo è il risultato. Partita che veramente è stata difficilissima da sbloccare, perché, ti ho detto, difendevano bene, poi questi c'erano pure Cepiteli, ex di turno, quindi capite bene che non è stato facile cercare il gol e farlo. Primo tempo, che poi si chiude con un Bari che non riusciva neanche più a gestire, questi erano riusciti anche ad avanzare, a prendere posizioni, a pressare, avevano quasi, diciamo, emulato la nostra tattica che iniziava, ovvero quella di pressare, o prima della metà campo, e cercare di recuperare da subito il pallone. E quindi sono stati bravi a prenderci, insomma, questo, chiamiamolo modulo specchio, ma in realtà si tratta di tattica, quindi. Detto ciò, poi, comunque sia, nel secondo tempo partiamo nuovamente bene, vai e rivai, poi i ritmi si sono di nuovo un po' rallentati, fatto sta che riusciamo anche in una partita molto, molto discussa su episodi o meno arbitrali, perché già dal secondo minuto poteva esserci un potenziale rigore, e poi c'è stato un altro potenziale rigore che dalle rinquadrature non era netto come rigore, infatti si è visto questo movimento qua, dove però c'aveva il braccio così, insomma, e sembrava che l'avesse presa con questo, ma in realtà l'aveva presa col gomito che era attaccato al corpo, quindi è giusto che non becca fischiato il calcio di rigore, è diversamente invece da quanto succede poi più avanti, perché rigore lì c'è, non mi ricordo bene chi è che l'ho fatto, però è un grandissimo figlio di Nanno, vabbè, avete capito, perché prende col braccio largo il pallone, e poi, siccome era girato sull'arbitro, fa direttamente così, come se fosse stato preso in faccia, cioè, ci vuole proprio genio estero e bravura nella truffa per poterti inventare una situazione di questo tipo, poi questa volta Bar conferma il calcio di rigore, meno male che ha tirato Beppe Sibili, perché se tirava Puskas, secondo me, non so, c'ho questa crociata contro Puskas che non lo sopporto, però poi magari mi sbaglierò, poi magari, magari, mi sbaglierò, chi lo sa, però, in tutto ciò, l'importante è che il Bari vince 1-0 di misura, cortomuso, però, 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 cogliacchini, si vedono i miglioramenti, eh, a livello proprio di voglia, di gioco e di tutto, e Brenno, poi sul finale, ci ha salvato tutto, tra l'altro, quell'arbitro oggi non ci ha, cioè, non voleva fischiare la fine della partita, stava un minuto oltre, forse anche due minuti oltre, non voleva fischiare fin quando il Ferralpisalò non segnava, poi all'ultimo c'è Piteli, Dex di poco, non ci arriva su quel pallone, meno malacristo, perché raggiungiamo pari punti di Modena, Modena che è settima, 33 punti, in attesa che ovviamente questi ultimi giocano e sono in zona playoff. Ora, da adesso, vorrei che iniziasse la nostra stagione. Proviamo a prendercelo sto playoff? Vogliamo provare a prendercelo? Se la squadra è così, si comporta così, possiamo anche, potenzialmente, fare qualcosa di importante, ma ci devono essere tutti. Ciao.